Gentili ascoltatori di Ho Ragione Avvocato, benvenuti a questa particolarissima trasmissione. Vedete già l'ospite d'eccezione che abbiamo oggi, lo sfondo è quello consueto di Ho Ragione Avvocato, ma la location è un po' diversa. Abbiamo per motivi tecnici organizzato questa puntata via Zoom con Riccardo Secchi. Buonasera Riccardo, benvenuto alla nostra trasmissione. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. In verità in quasi 16 anni di Ho Ragione Avvocato credo che questa sia la più atipica, ma forse tra le più gradite e più insolite puntate, perché parliamo con un nome, il nome Secchi sarà conosciuto da molti ascoltatori, un esempio per tutti, il papà di Riccardo che è Luciano Secchi, alias Max Bunker e diciamo solo autore di Alan Ford per non esondare, perché i tempi sono un po' stretti. Ma Riccardo ha saputo, come dire, costruirsi un suo percorso, una sua personalità molto variegata, iniziando da giovane con un prodotto fumetto che io ricordo, Gabriel, poi è passato alla Sergio Bonelli, editore, ha scritto diverse storie, sto leggendo un brevissimo bio, una brevissima bio, per Nathan Neve, attualmente anche per Dylan Dog e Zagor. Parecchie collaborazioni con le storie italiane della Disney, soprattutto di Topolino, per il settimanale Topolino, ma anche produzioni tv, autore e story editor e poi soprattutto ha insegnato sceneggiatura alla scuola del fumetto di Milano e alla nota Accademia Disney. Attualmente insegna alla scuola Moho e tiene un proprio corso di scrittura Storytelling Tools. Io ne ho frequentato uno lo scorso anno ed è stata un'esperienza anche se unica ma molto piacevole per me. Allora Riccardo, vorrei che illustrassi ai nostri ascoltatori, che magari questa sera saranno anche più giovani della nostra media di età, quali possono essere, latamente si intende, i problemi legali che un giovane scrittore che si affaccia al mondo dei fumetti, della produzione televisiva, uno sceneggiatore, può incontrare sul suo cammino. Certo. Beh, diciamo, facciamo l'esempio di un giovane sceneggiatore, un giovane autore che propone delle storie a qualche casa editrice e insomma magari una viene accettata, magari anche più di una, insomma inizia quindi un rapporto di collaborazione. Il mio consiglio è un consiglio forse scontato ma insisto proprio nel chiarirlo immediatamente, cioè la cosa secondo me da fare è chiaramente cercare di regolamentare il rapporto prima possibile con un vero e proprio contratto. Poi dopo la realtà del lavoro non c'è mai fretta, bisogna fare le consegne, insomma questa parte qualche volta magari può essere un pochino tralasciata all'inizio e invece l'invito è cercare subito di chiarirla, insomma. Un altro consiglio senz'altro, adesso bisogna anche dire che i grandi editori sono anche già molto più strutturati per regolamentare prima possibile il rapporto con i collaboratori. Magari gli editori più piccoli che hanno anche un range diverso, proprio anche economico, come portata proprio, magari possono essere meno pronti ma ugualmente io devo dire che mediamente anche l'editoria più indipendente in genere non si tira minimamente indietro nel regolamentare con dei contratti di collaborazione. Io consiglio sempre, anche se l'autore è giovane all'inizio con il grande entusiasmo che ha, finalmente è una mia storia, comunque di essere anche razionale di chiedere un contratto e di farlo leggere a un avvocato per avere comunque un'opinione specialistica, specializzata. È una buona norma, è una buona prassi e anche, come dire, un atteggiamento professionale, è serio, insomma. Quindi non abbiate vergogna di chiedere una cosa del genere all'editore con cui iniziate magari una collaborazione. È già un approccio professionale. È questo, insomma, volere regolamentare in modo legale sotto ogni punto di vista. Io devo dire anche, ecco, una cosa che spesso gli allievi chiedono, sono preoccupati è che, insomma, ovviamente magari tante volte si mandano progetti, soggetti, storie a un po' tanti editori e c'è quest'ansia che magari, no, me lo rifiutano, poi però magari tra due anni mi hanno preso la storia, me la vedo pubblicata e come faccio a proteggere? Sì e no, devo dire la verità. Io, nella mia esperienza, oddio, ci sarà sempre, come in ogni settore, l'editore è proprio pirata che, non lo so, arraffa l'idea. In ogni settore ci sono. Esattamente. Però io devo dire la verità, per la mia esperienza che, insomma, ormai è di qualche qualche anno, io non ho mai visto questa cosa qui. Anche perché, secondo me, un editore, per quanto piccolo, per quanto indipendente, se incontra un autore che ha delle buone idee, il suo grande interesse è che gliene dia sempre di più, in qualche modo. Sì, perché altrimenti se dovesse, come dire, urtarsi immediatamente, alla fine il talento potrebbe anche sfuggire, no? Esattamente. Per cui io, mi sembra difficile, insomma, non si può assolutamente escludere, ci sarà, come dicevo, quelli dell'imprenditoria, proprio mordi e fuggi, piratesca, però francamente. Io direttamente non l'ho mai sperimentata, non l'ho neanche mai vista, forse ho sentito parlare di qualche cosa, però no, io tranquillizzerei. C'è sempre poi, se uno proprio ha il progetto che ritiene che si sente più tranquillo, c'è sempre il deposito che uno può fare, insomma, magari anche tramite domani. Però secondo me bisogna avere sempre quell'equilibrio di non esagerare da una parte e dall'altra, insomma. Ma secondo me, francamente, è esagerato. Io, come dicevo, è un settore che, almeno su queste cose base, come dicevo, anche perché, come cercavo di spiegare, non ha senso se un editore incontra un autore con idee, cerca di accaparrarselo, di renderlo, non so come dire, di farlo, di essere accogliente, di farlo stare bene. Le idee, però, a volte magari vengono da altre idee, insomma, magari ci sono dei romanzi molto noti che tutti hanno letto e spesso si vedono nelle storie a fumetti, magari comparire dei soggetti che non sono proprio primitivi. Eh no, tocchi un argomento interessantissimo. Primi geni, diciamo. No, ma è verissimo. Intanto, vabbè, in linea generale, l'arte nasce sempre dall'arte, cioè da qualcosa di già esistente, di precedente, che viene anche rielaborato, ma che viene preso da qualcuno che ha già fatto quella cosa prima, un autore, un artista, magari è stimolato da quella cosa, da quel passaggio, da quel meccanismo narrativo, da quel specifico, particolare, e poi magari la rimodula, la rigenera in un altro modo. Ma questo è l'arte in sé, voglio dire, non è che si possa fare niente che sia assoluto, non so come dire, staccato completamente da quello che c'è stato, assolutamente no. Poi, è vero, quella cosa che dici, il citazionismo feroce, qua dobbiamo fare anche un po' di auto, secondo me, francamente devo dire sì, insomma, un po' un... dobbiamo anche confessare che per tanto tempo il fumetto ha realizzato prodotti fortissimamente ispirati al film, al romanzo precedente, ponendosi proprio con queste scelte, volgarizzando questi romanzi, questo materiale, ponendosi proprio culturalmente all'ultimo stadio, insomma, della catena, non so come dire, della qualità artistica. Non è sempre stato così, però l'abbiamo visto tante volte, insomma. Noi ci lamentiamo spesso, secondo me, abbastanza con ragione, di essere considerati una forma di espressione, se non un'artistica, troppo poco considerata, però è anche vero che ci abbiamo messo anche un po' del nostro per fare che questo capiti. E l'esempio di prendere il romanzo, da cui, insomma, semplifichi, banalizzi, volgarizzi e fai una storia a fumetti, l'abbiamo visto veramente tantissime volte, o il film, o che. Cosa diversa dal citazionismo, che magari è tipico anche di Dylan Dogg, e tante altre testate, ma Dylan l'avrà proprio poi istituzionalizzato, perché è consapevole, cioè si cita, si mette, è su un altro piano, insomma, non so come dire. Non è una scopiazzatura, ma è una consapevolezza. È una consapevolezza e poi devo dire, credo che si possa contestare tanto, ma non a sclavi, il creatore di Dylan Dogg. Nel caso in cui dovesse profilarsi un'avvertenza giuridica, qual è la tua esperienza e qual è il consiglio che, non avvocato, ma autore, tu potresti dare? Ma, guarda, io devo dire qualche cosa un po'... Io non sono stato mai coinvolto, francamente, un po' come carattere personale, un po' come consiglio di esperienza di vita, non so. Cercherei di, mi verrebbe da dire, di arrivare proprio in aula all'ultimissima cosa, se non è proprio possibile trovare un accordo prima, ma io credo che questo sia anche raggiungibile come obiettivo, insomma. Però, generalmente, io non ho sentore che ci siano casi particolari per quanto riguarda... Adesso credo ci sia qualcosa sul fatto che, essendo la nostra epoca l'epoca delle piattaforme, tipo Netflix, Prime, eccetera, quindi la declinazione di tante properties, come si chiamano, verso l'audiovisivo, cioè nella serie TV, così, magari alcuni contratti fatti a suo tempo non sono aggiornati da quel punto di vista lì, ecco, di questa declinazione nuova, di questo sfruttamento nuovo della proprietà, però io credo che sia assolutamente possibile. Un altro problema che credo che i tuoi allievi, i tuoi giovani allievi ti pongono è un po' quello anche del furto delle idee, no? Cioè, a questo punto, una sceneggiatura, uno schizzo, uno storyboard circola e poi che cosa succede? Ma sì, un po', dicevamo anche forse prima, però io non ci credo tanto a questa cosa, come dicevo. Il mio consiglio è che gli autori non si fermino, non si fanno una cosa che può essere un buon progetto, una buona storia e ok, la fai circolare, poi magari, oddio, devo dire che un paio di volte me anche la sensazione l'ho avuta anch'io, che qualche mia vecchia storia fosse di traverso, rivenuta fuori, che era stata, come dire, rifiutata all'inizio da un'altra parte. Però non sono cose poi facilmente dimostrabili, poi io mi dico, vabbè, cosa devo fare? Cioè, devo stare a tirare fuori un circo complesso quando io già so la testa su altre cose, devo fare questo, quest'altro. Cioè, io non direi di non fossilizzarsi su una cosa, cioè voi continuate a realizzare, esprimervi creativamente, se proprio, come si diceva, uno non ce la fa psicologicamente, vabbè, depositi alla CIA in altri tanti modi, ad esempio oggi si deposita molto online alla Writer's Guild of America, WGA, che si fa tutto online, che protegge tanto quanto la CIA e poi è più economico come deposito, per esempio. Questa è una prassi, se proprio uno non ce la fa, fa così, insomma. Però io inviterei un po' la tranquillità, insomma. Ma mi pare, come sempre, un ottimo e saggio consiglio. Ci mancano 48 secondi, qual è il tuo prossimo progetto, se vuoi anticiparlo, ha ragione avvocato? Beh, guarda, mantengo un po' di riservo, come si diceva prima, è l'epoca delle serie TV, delle piattaforme, come si chiamano, cioè Netflix, Amazon, come si diceva, ho un paio di progetti in discussione con questi per realizzare un paio di serie, però non c'è ancora niente di, diciamo, la direzione in cui mi sto un po' muovendo e in cui ho aperte delle discussioni, sono queste, però non ho ancora, ovviamente, dei miei fumetti, insomma, da seguire. Lavori tanto durante la giornata, riesci a staccare mentalmente o ad ogni momento, e con questo chiudo poi la trasmissione, ogni momento è dedicato magari a una elaborazione? No, adesso con l'età mi sono un pochino, ho imparato un po' a staccare la spina, francamente, perché poi almeno ti rigeneri anche un po' di più e quando ritorni sei magari anche più fresco, però quella cosa che dici l'ho conosciuta assolutamente, mi sa che l'hai detta non a caso, perché è tipica. Senti Riccardo, noi ti ringraziamo, davvero è stato un primo incontro che speriamo anche di ripetere, magari dal vivo, perché l'idea era quella di averti nei nostri studi, ma per vari motivi abbiamo scelto questa via di mezzo, proprio per non ritardare ulteriormente questa puntata speciale, questo incontro con te. Ringraziamo Riccardo Secchi e diamo appuntamento alle prossime puntate, tra virgolette, normali, ma questa davvero è stata speciale, per me di Oragione, Avvocato. Riccardo, buonasera e alla prossima. Grazie, buonasera anche a voi. Grazie. Di nuovo. Grazie.